Allora signori questo è un mezzo video di risposta al caro barbetone, barbolone, civalvolone, scura X. Allora lui stava commentando insieme alla signorina Claudia Vanzavecchia un vecchio cartone animato che fu fatto tempo fa per indurre le persone a non diventare dipendenti dagli stupefacenti. Allora in questo cartone animato qua ci esce fuori Duffy Duck che si mette a prendere una palla scura e la definisce come la sfera... la palla di cristallo, la sfera di cristallo si mette a prendere il futuro, una cosa del genere comunque. Sto dicendo un mucchio di cose imprecise, scusate ma non è proprio la mia materia. Comunque allora il capitano si mette a dire che a... proprio così no? Che a Duffy Duck l'hanno fregato perché quella lì è una sfera di cristallo nera che lui dice che tra qualche milione di anni diventerà la sfera di cristallo, perché forse il capitano a prendere... crede che la sfera di cristallo sia come un diamante, no? E avrebbe appogliato quella sfera di cristallo nera che teneva Duffy Duck, no? Come una specie di pezzo di carbone che secondo lui tra qualche milione di anni diventerà sotto pressione e diventerà pure quello un pezzo di diamante con cui ci penso che ci potrà fare la sfera di cristallo. Signori, allora, lasciamo aperto il fatto che... Povero ragazzo, no? Lui è un chimico e lui ragiona proprio in quella maniera là, no? Comunque volevo farmi capire una cosa. La sfera di cristallo in sé per sé, no? Almeno quelle che stanno in commercio, praticamente sono delle palle di vetro, né più né meno. Vabbè, il cristallo è una cosa, il vetro ne è un'altra, cioè ci sta la differenza. Però quelle che stanno in commercio solitamente sono fatte industrialmente e sono praticamente delle palle di vetro. Mo, siccome il vetro può essere colorato di vari tipi, blu, marrone, verde, azzurato, rossi, che ne so, ci stanno vari tipi di colorazioni. Metto pure in descrizione un sito dove ti dice che materiale solitamente si utilizza. Comunque, solitamente un vetro può essere colorato in qualsiasi maniera. E allora una palla di cristallo può essere pure essa nera. Cioè non ci sta nulla di particolare. No, però perché poi ci sta di fatto, no? Che ho visto su internet che la fanno pure originale, no fatta di vetro, no? Ma originale, fatta in ossidiana, che non mi parlo. Non mi ricordo anch'io di che materiale era fatta. Magari ho detto pure una cavolata. Comunque, quello che volevo finire di dire, signori, che fisicamente questa è, ma psicologicamente esiste la cosa per la palla di vetro, cioè per la palla di cristallo nera. Non so se faccio qui. Signori, allora la palla di cristallo, quella lì, la sfera di cristallo, diciamo, viene utilizzata dal mago come punto per concentrarsi. Metti in descrizione pure il video che ho fatto su fatta la concentrazione. Ehm, qui, da, perché questa è una cosa, da queste parti, diciamo, no? Ehm, perché, ehm, se andiamo a vedere, per esempio, in, in, in Asia, apposta della sfera di cristallo, utilizzano lo specchio. Faccio un esempio dello specchio da materasso. Ehm, quello lì è, ehm, praticamente è la stessa cosa, che apposta di usare, come si chiama, la sfera, utilizzano uno specchio, come, per concentrarsi, che poi diceva che veniva fuori le immagini, cosa, no? Però, comunque, a parte questo, no? Ci sta il fatto che ci sta, esiste pure la sfera di cristallo proprio nera. Cioè, era pure questo, ehm, ehm, potete che sarebbe, solitamente, per la concentrazione. Però, comunque, ci sta pure la magia, non, non sto dicendo la magia nera. Quella è un'altra cosa. Ci sta la magia bianca, la magia nera, ci sta pure la magia rossa, per questo. Poi ci sta la palla, cioè, la sfera di cristallo, ehm, normale, trasparente, che tutti quanti sanno, e quella lì, la sfera di cristallo nera, che serviva proprio per cose completamente a parte. Cioè, era una cosa completamente a parte. Ma io non sono un esperto di queste cose qua. Questa cosa la sentì in una trasmissione di Rai 3, proprio, nel, pare, nel 2000, e non mi ricordo neanche io, 2001, 2002, non mi ricordo, è passato anni col tempo. Comunque, è una cosa che, ehm, a me non mi dice niente, perché io sono un maiale senza Dio, cioè, c'è, proprio scettico. Però, molte persone, ehm, in queste cose, ci sono, uno è libero di credere in quello che Caspira vuole lui. Eh, basta scrivere con i piedi orterri, non fa male a nessuno, ma io, per quanto mi riguarda, può fare quello che Caspira vuole. Io, per esempio, qui sto usando come sfera di cristallo, una sfera, come si chiama, che è quella, la sfera plasma. Eh, dopo faccio pure la presentazione, cose. Comunque, signori, questo volevo farvi capire, ehm, che esiste il fatto della, ehm, sfera nera. Però io, non, non, essendo un esperto, non vi saprei dire qualcosa di più. Se ci sa qualcuno che ne sapesse qualcosa di più, di queste cose, finisci a farmi un bel commento qui sotto, cos'è meno, facciamo divulgare le idee. Signori, non devi divulgare soltanto le idee cosiddette scientifiche, perché la differenza tra, ehm, la cosa scientifica e la cosa non scientifica, ehm. Cioè, la cosa scientifica è necessaria, lo capisco pure io. Però, ho detto, già altre volte, ehm, nella vita si cambia pure di miracoli. Cioè, ognuno può che, che è libero di fare quello che vuole lui, cioè, basta che non fa male al prossimo, e basta che rimane pure lui con i vetri per te, a meno che questo è per lui, dico. Sì, ma comunque, questo è il fatto della, sta cosa mi sa che incomincia a puzzare, eh, perché queste erano le cinese, vabbè, fanno le staccane, eh. Allora, eh, cosa, ah, sì, una piccola cavolata volevo finire, prima che si bruci sta cosa. Allora, ehm, ci stava il, come si chiama, ehm, durante quel cartone animato, ha fatto vedere, da Fidac, che quella sfera nera, non era una sfera di cristallo, ma era una palla alla bowling. No, perché questo mi ha fatto ricordare pure la sfera numero 8, quella del, del biliardo. Perché vendevano un giocatto che era la sfera numero 8, che ti diceva le previsioni. Cioè, ha fatto proprio un misto, cioè, ha fatto tutto quanto con un catenato. Ah, quante belle cose ci stanno. Comunque, metto tutto in descrizione qualcosa, per fare qualche bel video buono. Comunque, fate un giro sul canale, eh, qualche cosa, magari, l'ha imparato, qualche risata. La risata non è sempre garantita, però, mi fate piacere, facciamo qualche toghiacchiera. Tanti saluti, e VOTA OMAR!